Allora indossate le cuffie ragazzi, insomma voi avete grandi probabilità di essere al torneo finale dei campioni che sta per cominciare nei prossimi giorni, il torneo finale dei campioni di reazione a catena, i più forti di quest'anno più una grande sfida, vi diremo meglio nei prossimi giorni, Alessandro mi senti bene? Sì Pierluigi e Antonio Sì Allora giochiamo in bocca al lupo, entri l'ultima catena Alessandro, inizi tu, principe, P, minuto Alessandro Gioco il jolly Allora entra la seconda lettera, principe, P, I, minuto Perché il piccolo principe per il libro è piccolo e minuto Pierluigi Secondi I secondi 60 formano un minuto e la portata, i secondi compongono una portata In un pasto Vediamo Andiamo da Antonio con un'altra lettera, minuto S e portata Antonio Secondo Il secondo è il sessantesimo del minuto e il secondo è una portata delle tante di un pasto Primo, secondo, contorno Delle tante portate Questa era la differenza rispetto alla risposta di Pierluigi Era quindi al singolare Finito il primo giro 68.500 euro E avete ancora un jolly a disposizione Torniamo da Alessandro Portata M Freno Alessandro Mano Essere alla portata A portata di mano, insomma E il freno a mano della macchina Vediamo Giusto Bravo Alessandro Pierluigi, torniamo da te Freno M Olio Pierluigi Motore Il freno motore È ciò che non è il freno a mano L'auto frena sulla base delle marce Che abbiamo ingranato E l'olio del motore Che lubrifica Ingranaggi Motore freno Dici che scalando le marce Se io passo dalla terza alla seconda Rallento Grazie al freno motore E quello ci chiama freno motore Bravo Pierluigi Adesso andiamo da Antonio Olio 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 S Compressa Antonio Schiacciata Credo che sia Un piatto tipico di qualche regione Non mi ricordo quale però Sicuramente è una focaccia con l'olio Una cosa del genere E schiacciata e compressa sono sinonimi Focaccia tipica toscana E anche molto appetitosa A quest'ora Attraente Allora Andiamo per chiudere la catena Alessandro Compressa G Nodo Alessandro Abbiamo ancora il jolly? Sì Allora lo gioco L'ultima occasione per giocarlo Entra la seconda lettera ed è una O Compressa G O Nodo 8500 euro Questo è il valore dell'ultima parola Giochiamo insieme cari amici Stasera partiamo da Nodo Nodo Tutto con la cravatta Avere un top Nodo È carina come ragionamento Però non mi sembra si dica Intreccio Il nodo è un intreccio Il nodo di Firenze All'intreccio Ok ho capito C'è un intreccio di binari Ok Ok Sì Anche semplicemente il nodo è un intreccio della corda Intrinseco no Intrigo Un nodo in una questione potrebbe essere un intrigo astrettamente Ok Sì però mi piace più intreccio Insisto Intimo No 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 Interno Intorno Un intorno Infimo Infido No 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 sicuramente Nodo inteso come il nodo della questione o il nodo appunto come intreccio Ok Come significato secondo me è quello Io sarei per chiedere Sì sì anche io chiederei Anche se intreccio è bella forte No no chiedi chiedi Chiedo chiedi Ale Cerchiamo ancora Per ora sì Intorpidito Insaccato Nodo insaccato Cosa no 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 Avere un piede insaccato Un dito È come se si formasse un Uno Chiedo 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 Pierluigi Compriamo il terzo elemento Allora Immeggiamo 34.250 euro E questo È il terzo elemento Scoglio Superare uno scoglio Superare uno scoglio Superare uno ostacolo Sì Se no lo scoglio letteralmente Incastro Sì Bella Sì Però con scoglio Ci si può impattare contro uno scoglio e incastrarsi Lo fanno le navi Incastrato È difficile scegliere tra queste due Quali abbiamo Incastro Incastrato Incastrato in treccio Uno scoglio Quando la nave si ferma tra gli scogli Come si dice? Che si Che si Ina Non inabissato Che si I Pierluigi Dai veloci Incastro Ok Incastro Togliete le cuffie Lo spieghi Per lo stesso percorso di intreccio in realtà va bene anche incastro Cioè un nodo è un incastro di elementi Ad esempio peli o anche solo il nodo di un laccio Vado a incastrare le varie componenti In un nodo appunto Incastro in uno scoglio È ciò che avviene a una nave O Una qualsiasi cosa che naviga Quando impatta contro uno scoglio Avviene un incastro Perché lo scoglio Che cos'è? È un masso Un blocco Sì ma anche nell'uso comune Ecco difficoltà Un ostacolo Un intoppo Un intoppo Un intoppo Dici Il nodo La parola di stasera L'avete detta Scopriamola insieme È intoppo Un nodo È un intoppo Alessandro l'aveva detto anche stasera Uno scoglio Difficoltà quasi insuperabile Mi dispiace davvero ragazzi Ma domani è un altro giorno Siete ancora campioni E ci riprovate A domani Linea Tg1 Buona serata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti